E' stato presentato questa mattina il progetto denominato Benessere Sportivo, che prevede l'erogazione di voucher destinati alle famiglie che si trovano in difficoltà economica. Possono presentare domande ai nuclei familiari residenti nel territorio dell'ambito sociale 6, nei quali sono presenti minori di età inferiore a 18 anni, con ISEE non superiore a 6.000 euro, oppure beneficiari del reddito di cittadinanza. La richiesta può essere inoltrata solo in modalità telematica, da oggi fino al 30 dicembre, accedendo al link dedicato sul sito dell'ambito o sui siti istituzionali dei nove comuni che ne fanno parte. Sarà necessario lo speed o la carta d'identità elettronica. Nello specifico, il voucher di 200 euro potrà essere richiesto per ciascun minore e per una sola disciplina sportiva frequentata dallo stesso per l'anno sportivo 2022-2023. Il buono potrà essere utilizzato in favore delle associazioni, delle società sportive e dilettantistiche iscritte in un apposito elenco. Infatti, d'altra parte, queste ultime dovranno presentare domanda entro lo stesso termine con le stesse modalità. Potranno aderire quelle già iscritte a registro nazionale del CONI o al Comitato Italiano Paralimpico, quelle aderenti alle discipline sportive associate oppure a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Un intervento che io chiamo di esempio di welfare generativo perché da una parte c'è appunto l'ambito, quindi la parte pubblica che interviene con un sostegno per le famiglie che sono o che versano in condizioni di disagio socio-economico e dall'altra ci sono le società sportive, quindi il mondo delle associazioni, del privato, che contribuiscono anche loro con uno sconto del 25%. Ecco, credo che sia una bella misura di una sinergia tra welfare e sport perché siamo sempre più convinti che questi siano partecipare alle attività sportive sia un percorso di tipo anche educativo, aggregativo e che quindi ha un grande valore e un impatto sociale. Complessivamente verranno messi a disposizione 50.000 euro grazie al Fondo di Povertà Nazionale che finanzia il progetto. Il progetto di benessere sportivo dà sicuramente un sostegno sia alle famiglie, potenzia quello che è il diritto allo sport, che è un diritto per tutti, è un sostegno alle famiglie che magari sono disagiate e non potrebbero fare appunto aderire i propri ragazzi a quelle che sono le discipline sportive, è un sostegno anche per le società sportive che in questo caso sono state provate da quelli che sono stati gli aumenti, i rincari del costo energia, ma è anche poi veramente una diffusione del benessere per le nostre nuove generazioni. Quanti potrebbero essere i bambini e i ragazzi beneficiari? Almeno 250, è un numero importante, significativo che sicuramente nel tempo crescerà, anzi noi ci auguriamo davvero di dare una risposta significativa.